Benvenuti Benvenuti al punto, trasmissione settimanale di approfondimento su temi di attualità, politica e economia da Palazzo Cesaroni, oggi in studio i consiglieri Maria Grazia Carbonari, Movimento 5 Stelle e poi abbiamo la nostra consigliera Casciari del Partito Democratico. Ad entrambe nel salutarvi dico subito che sempre c'è una scaletta della nostra trasmissione ma oggi la precedenza ce l'ha un fatto che abbiamo appena vissuto tutti e cioè questa ripresa del terremoto che abbiamo vissuto da poco. Ecco, chi ci vede in televisione sa che contestualmente a ciò noi ci prepariamo ad una discussione che non può prescindere naturalmente da questo fatto. Personalmente prima di sentire le consigliere che sono ospiti vorrei essere un messaggio di vicinanza alle popolazioni che sono state più duramente colpite, quelle vicino alla zona dell'epicentro, posto che poi è andata nel panico tutta l'Umbria, non solo l'Umbria. Quindi è un abbraccio di solidarietà che rivolgiamo ai cittadini umbri, marchigiani, dell'Alto Lazio e dell'Abruzzo che sono stati coinvolti molto da vicino. E anche vorrei rivolgergli un invito alla pazienza sia perché per uscire da queste cose naturalmente ci vuole tempo, pazienza anche nel sopportare i miei colleghi giornalisti che adesso saranno intorno a quelle case, a quelle chiese e faranno domande, faranno riprese. Saranno sicuramente anche fastidiosi, però è anche importante la loro funzione, quindi devono svolgere questo lavoro. È importante che lo facciano perché la circolazione delle informazioni è un altro fattore importante in questi casi. Dicevo, c'era una scaletta su temi politici, però parliamo prima di questo con Carla Casciari e Maria Grazia Garbonari. Poi dal punto di vista umano e dal punto di vista di cittadini umbri abbiamo appena superato un momento difficile e c'è un pensiero, io credo, da dare a chi ci ascolta prima ancora di parlare di temi politici in senso stretto. Maria Grazia Garbonari, prego. Certo, chiaramente esprimiamola io come esponente politica, ma come persona in primo luogo esprimo la massima solidarietà a quelle persone che si sono trovati ancora una volta a subire questo evento che io stessa, essendo di Foligno, ho già vissuto in un'altra occasione, come anche ieri, ed è stata una cosa veramente, non voglio dire drammatica perché non voglio drammatizzare la mia, immagino però che chi ha vissuto e chi vive in quei territori penso che è veramente da comprendere e bisogna essere in tutti i modi possibili vicini a questa popolazione perché la paura, anche se non ci sono state vittime, quindi di questo chiaramente siamo felicissimi, ma la paura di vivere in quel territorio ora con tutte le strutture, le case danneggiate, penso che è notevole, quindi noi siamo vicini come persone in primo luogo, ci riecheremo quanto prima, non vogliamo in questo momento andare a disturbare poi quelli che sono i lavori della protezione civile, però quanto prima per essere più che altro vicini dal punto di vista umano, non tanto per altri motivi. Carla Cacciari? Sì, intanto buonasera, purtroppo ancora una volta siamo costretti a fare i conti con delle scosse molto forti, faglia nuova, faglia vecchia, il dato è che purtroppo di nuovo la gente è fuori, ci sono danni anche in Umbria, ingenti che non riguardano solo il patrimonio artistico e culturale ma anche le singole abitazioni, soprattutto in una zona già disagiata dove è già inverno conclamato, quindi la nostra vicinanza, anche la mia, non solo politica, siamo andati anche come commissione, ha passato la fase emergenziale del 24 agosto, ma soprattutto come Umbra, come cittadina, perché appunto abbiamo tutti vissuto questa, diciamo la fase del 97, ma anche l'ultima grande evento del 24 agosto, con un forte coinvolgimento anche emotivo, perché per noi purtroppo diventa per l'Umbria, diventa quasi routine convivere con questa situazione, quindi la vicinanza stretta, so che la giunta è nei territori diciamo colpiti, la Presidente e alcuni assessori erano già stanotte alla sala operativa della protezione civile, quindi lasciamo a loro diciamo il compito operativo e anche quello attivo, però non mancherà, come diceva la consigliera, di seguire anche diciamo se non sul campo per non intralciare poi l'attività quotidiana che deve necessariamente riprendere, però dal punto di vista proprio di lavori d'aura, di attenzione e anche cosa fondamentale fondamentale a che presto torni la normalità, con le attenzioni naturalmente di una zona che sappiamo essere fortemente sismica. Ecco, le consigliere hanno già sottolineato che la giunta regionale, naturalmente questa lo do come informazione, è da subito, si è messa al lavoro, tutti gli assessori, Presidente Marini in testa, tra l'altro la regione purtroppo perché è un ripetersi di un evento già verificatosi di recente, la regione era già sul pezzo perché proprio poco prima delle scosse aveva raggiunto un accordo con l'autorità anticorruzione, col dottor Cantone, non solo la regione Umbra, le regioni interessate alla ricostruzione anche per ricostruire, perché adesso poi entreranno i discorsi anche di ricostruzione, quindi in maniera pulita, chiara, trasparente e anche di prevenzione perché questo ci sarà da fare io credo lungamente negli anni a venire. Allora, buon lavoro a chi sta lavorando su questo e ancora una volta un momento di vicinanza, un abbraccio alla dignità delle persone dell'Umbria che anche in questo evento terribile danno di sé Umbria, Marche, Alto Lazio, Abruzzo, le persone che vediamo poi in televisione che vengono fermate, alle quali si chiede di raccontare che cosa accade, dimostrano secondo me una grande dignità, questa Italia centrale ha mostrato in questo momento così difficile un volto molto bello, molto apprezzabile e che dobbiamo lodare. Allora, i temi di oggi, la scaletta nostra politica riguardava anche l'attività dell'Assemblea Legislativa, chiaramente come sempre. Parto allora con la prima delle questioni che volevo commentare con le due consiglieri regionali, tra l'altro credo sia la prima volta che succede che ci sono due consigliere donna in questa trasmissione, il che potrebbe anche lasciare intendere che la proporzione fra maschi e femmine all'interno dell'Aula Consiliare, io già vedo che mi fanno cenno di sì, ed è un argomento politico questo, tra l'altro con una legge che riguarda le politiche di genere che ha appena superato il vaglio della terza commissione di cui entrambe le consiglieri oggi presenti fanno parte e che adesso quindi arriva al voto dell'Aula. E quindi politiche di genere, anche questo, cioè rappresentanza delle donne e parecchie altre cose. Allora parto con Maria Grazia Carbonari per questa legge approvata, intanto ecco non è stata approvata all'unanimità la sua impressione su questo provvedimento. Allora la mia impressione, premetto che come donna, prima che come politico, chiaro che sono favorevole a fornire, a dare gli strumenti idonei e opportuni alle donne affinché, che si trovano in una posizione svantaggiata rispetto ai colleghi uomini in qualsiasi campo, affinché magari le condizioni di partenza siano uguali per tutti. Però quello che mi dispiace notare è che, ecco, il dubbio e la speranza magari che non sia così, più che altro spero che non sia così, è che spesso si facciano delle costruzioni, delle leggi, piene di tante belle parole, con tanti bei principi e poi nei fatti lo stesso consiglio, come l'Aggiunta, che porta poi, che diciamo caldeggia chiaramente l'approvazione di questa legge e poi si ne dimentichi nei fatti. Lo dico perché nelle varie occasioni, io sono qui da un anno e ricordo che nelle occasioni in cui in consiglio sono passate le nomine di amministratori, di consigli di amministrazione, ora di amministratori unici passeranno, dei revisori, e a me pare che poi lì se ne dimentichi. Allora io dico, dal mio punto di vista, che sono una persona molto concreta, io preferisco che in primo luogo si rispetti questa volontà, emerga dai fatti. Cioè dobbiamo fare delle nomine dei revisori? Bene. Seguiamo questo principio. Dobbiamo nominare degli amministratori unici? Seguiamolo questo principio. E non venite a portarci delle leggi, delle bellissime parole che poi nei fatti voi stesse smentite. Poi c'è una legge nazionale, peraltro, che non viene rispettata. E un'altra cosa che voglio dire, non sono ancora, non sono stata in grado di fare un'analisi ben precisa. Perché? Perché alcune nomine, per esempio, appartengono all'assemblea legislativa, in alcune società, ed alcune appartengono ai comuni. Quindi magari l'assemblea legislativa nomina, che ne so, a un revisore, magari uomo, e non sappiamo però quello che faranno i comuni. Spesso però che cosa succede? Se uno va a fare un'analisi di ogni singola società partecipata, o di organismo, che comunque è ente, che comunque le cui nomine fanno capo alla pubblica amministrazione, si accorge che in realtà la parità di genere non è rispettata. Ecco, allora, prima iniziamo a fare dei fatti. E poi benissimo tutte le leggi che ci pare. Però rispettiamo in primo luogo i fatti, anche perché c'è una legge nazionale che, insomma, parlava chiaro su questo. Ecco. Ricordo per sommi capi, maggiore presenza delle donne, maggiore rappresentatività, quindi parità negli incarichi, nella rappresentanza. Sostegno all'imprenditoria quando si intende assumere donne, far lavorare donne, imprese a conduzione prevalentemente femminile, ma anche informazione e formazione, cioè far conoscere, diffondere questi concetti e anche un ruolo della scuola, diciamolo pure, perché alcuni aspetti di questa legge, io ho letto nell'articolato, propongono anche di, come dire, rivalutare la figura femminile nel corso della storia, cioè dare l'importanza alle donne anche da quel punto di vista proprio della didattica. Insomma, una legge che comprende tantissime cose, Carla Casciari, una legge quadro, proprio perché si appiglia a tante altre cose che già ci sono, ne cito una, i centri antiviolenza, l'attività del centro pari opportunità, quindi un gran calderone di cose che tendono in una direzione, questa del raggiungimento, diciamo, di una parità di genere, politiche di genere. Sì, ma io non sono come la consigliera Carbonari legata solo a quante nomine si fanno femminili, c'è un problema di cultura, di genere, naturalmente, io non sono per l'equaterosa, assolutamente, ne va il fatto che la nuova legge elettorale aveva una, appunto, la parità nella intrinseca, ma in realtà le presenze, come lei diceva, femminile e nell'assemblea legislativa poi alla fine non sono così numerose come dovevano essere. Ma invece ne faccio una questione di cultura e questa è una legge che, appunto, in un quadro trasversale cerca di fornire, naturalmente è un percorso, a mio avviso, prima di tutto, personale di ciascuno, del datore di lavoro, del politico, dell'amministratore, di fornire, appunto, quegli strumenti indispensabili perché le donne abbiano pari opportunità. Penso, prima di tutto, perché una parte importante che forse va un po' sfumata, anche lei non l'ha ricordato, sono le politiche di conciliazione. Una donna arriva dove deve arrivare se ha gli strumenti giusti, non solo, appunto, legislativi, ma soprattutto strumenti strutturali. Penso, appunto, alla possibilità di fare dei contratti di lavoro diversi in presenza di bambini e necessità familiari. Penso ai servizi per la prima infanzia, che comunque sono contenuti, cioè è uno delle stampelle importanti della legge. Penso anche a strumenti, appunto, nell'ambito dell'imprenditoria, cioè una riserva, in questo caso il 50% di quegli strumenti che la pubblica amministrazione mette a disposizione in termini di incentivi, penso tutta la parte di finanziamenti europei, per chi, diciamo, intraprende un percorso lavorativo. E poi c'è tutta la parte, altrettanto importante, di strutturazione dei centri antiviolenza, che per decreto nazionale ci sono, ma che ancora la Regione non aveva inserito nel sistema di servizi in modo, diciamo, strutturato. E quindi anche qui il loro ruolo centrale rispetto agli antilocali e rispetto, naturalmente, ai servizi per il lavoro, all'abitare, perché anche qui c'è una quota, la legge introduce una quota di riserva per le donne che purtroppo obbligate a lasciare la propria abitazione o comunque a cambiare strada per problemi legati appunto a violenza, sono costrette, soprattutto quando ci sono bambini, a trovare un'altra dimensione abitativa. Quindi una legge quadro che seguiremo e mi auguro che anche il Movimento 5 Stelle sia in questo proattivo, cioè seguiremo nella sua applicazione, è un passo avanti, certamente, siamo una delle prime regioni a portarlo all'assemblea legislativa e credo che sia un bello obiettivo, anche perché è stata costruita con una partecipazione molto ampia, ormai da circa 5-6 anni e quindi ha visto veramente un partel trasversale di persone che hanno contribuito con la loro storia, con il loro trascorso, ma anche con l'attualità, penso, cento antiviolenza a costruire questa legge quadro. Ecco, questa legge è stata approvata in commissione, adesso ci sarà l'ultimo passaggio, quello in aula, dove tutti i consiglieri regionali si esprimeranno attraverso un voto che sarà quel punto definitivo. Prego, Carbonari. Vorrei aggiungere una cosa, essendo stata provenendo dal mondo del lavoro, devo dire una cosa, che la disparità che esiste tra una lavoratrice donna e un lavoratore è notevole, ma perché? Perché comunque, dal punto di vista, mi metto dal punto di vista dell'impresa, che si trova spesso a dover scegliere se assumere un uomo o una donna, il problema è sempre quello, è inutile che ce lo scondiamo, la donna rimane incinta, se rimane incinta io devo, come impresa, devo sostenere i costi, eccetera, eccetera, chiaramente dei primi tre mesi di novi, due mesi, tre mesi quanti sono, di maternità e poi c'è l'allattamento, insomma, e tutto questo. Ora, senza le donne, premetto che noi saremo estinti, quindi è normale che una donna, questo è il percorso della vita, però a mio parere, questo diciamo, credo è un'idea mia, anche da spersonalizzare come politico, le differenze devono essere rimosse dallo Stato, cioè per quale motivo deve essere a carico del datore di lavoro il costo delle due, tre mensilità della maternità, è lo Stato che deve garantire varie opportunità, non l'impresa, quindi se anche si facesse in modo di eliminare questa disparità e quindi questo maggior costo dell'impresa, poi l'imprenditore chiaramente, per quanto vuoi ritenere, perché spesso lo sentivi, più brava una donna su certi ruoli rispetto a un uomo, però si trova a dover dire, ho capito, ma questa potenzialmente è una persona che comunque mi darà luogo a un aggregato maggiore di costi, quindi siccome l'imprenditore fa delle scelte economiche, allora non ce ne nascondiamo, mettiamo tutti sul pari livello e quindi lo Stato si faccia carico dei costi ulteriori che sono il diritto, un diritto giusto poi peraltro di una donna, che io estenderei anche ad altri mesi, insomma darei anche più garanzie, senza altro, perché bisogna aiutare le donne a essere tranquille sul fatto che la maternità non implichi dei problemi nel posto di lavoro, però che se le assuma lo Stato questi oneri, non le imprese. Se è vero che è importante il ritorno alla crescita demografica che sta invece rallentando. di progetti e poi non mettiamo in campo delle misure idonee per risolvere il problema all'origine. Cacciari? Beh, devo dire che già il governo si è mosso, visto che è stato esteso il congedo parentale ai papà e soprattutto fino agli otto anni dei bambini, fino con la possibilità di assentarsi dal posto di lavoro addirittura ad ore e non più quindi in periodi definiti e quindi diciamo un'estensione importante perché sempre di più i compiti di cura potrebbero essere divisi anche nell'ambito della famiglia e quindi un passo avanti. Certamente rispetto ai servizi c'è ancora molto da fare, se guardiamo a livello regionale siamo messi più o meno bene e in alcune regioni ancora c'è un gap molto importante, anche servizi più leggeri rispetto a quelli quindi legati a contratti per esempio atipici, contratti a termine, quindi non più l'iscrizione annuale per esempio a un nido ma la possibilità di iscriversi solo quando il lavoro purtroppo ci costringe ad assentarci. Quindi anche qui credo che sia guardando anche fuori e guardando anche altre realtà, penso appunto ai paesi del nord dove il fatto di avere bambini assolutamente non condiziona la condizione lavorativa, quindi uno slancio, particolarmente in alcune regioni certamente sì, ripeto, è un percorso culturale che va sostenuto non solo con una legge ma lavorando e credo che anche il centro pari opportunità che per l'Umbria è stato, per l'Italia è stato diciamo all'avanguardia avrà un suo ruolo importante in questo. Negli argomenti che ho segnato ce n'è un altro che riguarda le famiglie e questa volta guardiamo un altro tipo di problema e molte famiglie non ce la fanno più per un tema che entrambe sarete chiamate ad affrontare in Commissione Sanità della quale fate parte ed è il problema della non autosufficienza. Qui i numeri crescono, crescono di anno in anno sempre di più e i problemi si ingigantiscono anche per le famiglie che hanno dei ragazzi, dei pazienti, dei familiari in condizione di non autosufficienza. Cresce perché cresce anche l'allungamento della vita, dell'età, quindi ci sono sempre più anziani ma entrando nelle pieghe anche qui dei provvedimenti che la regione sta facendo il problema non è e non può essere limitato agli anziani che sono tanti che sono in aumento ma bisogna che le risorse vengano indirizzate anche ai giovani disabili e quindi alle situazioni che ci sono. La tendenza e lo spirito dei provvedimenti legislativi che stanno andando avanti, lo ha confermato anche l'assessore Barberini, è per favorire la domiciliarità, cioè questo è un po' una cosa nuova, cioè favorire che disabile rimanga a casa per quanto possibile. Ecco, nei dettagli e secondo le vostre angolature questo argomento che è appunto in divenire la non autosufficienza, come sarà trattato, quali sono le priorità da dare a questa vasta purtroppo platea di persone che attende risposte? Maria Grazia Carbonari. Noi abbiamo in qualche modo condiviso con tutta l'assemblea legislativa la nostra volontà di rivedere un po' il sistema e devo dire che qui c'è stata una volontà unanime di tutta l'assemblea perché sì è vero che l'assessore ha dichiarato di favorire, di voler favorire la domiciliarità nel trattamento dei disabili e delle persone non autosufficienti, però a nostro parere questo tema non deve essere solamente affrontato con la favorire la domiciliarità mandando, affidandosi in qualche modo a dei servizi forniti da una cooperativa che magari invia a casa della disabile, della sua famiglia, delle persone per due o tre ore al giorno perché un anziano e un disabile non è disabile due ore al giorno, è disabile 24 ore al giorno e le famiglie che vivono purtroppo questa situazione hanno delle difficoltà oggettive di stare diciamo proprio di vita quotidiana di dover di cura di queste persone e quindi le due ore al giorno, le tre ore al giorno o quattro quello che vogliamo fare di una persona inviata da una cooperativa che magari spesso è diversa che quindi non ha neanche riesce ad avere un contatto diciamo un rapporto proprio di carattere come posso dire un rapporto continuativo con quel disabile o con quell'anziano riesce ad instaurare perché magari è sempre diverso, perché magari va di corsa, perché la cooperativa in quel giorno gli dice che deve andare in cinque o sei case ecco allora dal nostro punto di vista riteniamo che la scelta debba essere lasciata in mano alle famiglie perché le famiglie che soffrono un problema di questo genere potrebbero sì avere quando potrebbero avere la possibilità, devono avere la possibilità di scegliere se far seguire il proprio familiare da un diciamo lavoratore di una cooperativa o addirittura perché non hanno la possibilità farlo diciamo farlo seguire proprio mettendo o facendolo domiciliandolo diciamo in una di questi istituti oppure sostenere la famiglia con un assegno di cura con il quale la stessa famiglia sarà in grado di scegliere la persona badante o comunque la persona che potrà curare il proprio caro e sceglierlo peraltro coprendo una maggiore quantità di ore perché ricordo che un'ora di un lavoratore di una cooperativa costa circa 25 euro mentre il contratto nazionale per questo tipo di servizio di un badante ne costa 7 8 quindi voi capite bene che significa un'ora di una cooperativa contro quasi tre in una contrattazione di tipo privato tra la famiglia e il badante per cui io copro un numero maggiore di ore abbiamo fatto delle interviste che poi manderemo a breve ad alcune di queste famiglie alcuni dicono noi siamo carcerati in casa da anni senza aver commesso reato stiamo agli arresti domiciliari perché se esco io non può uscire mio marito e io penso che tutte le persone che vivono questa situazione conoscono bene conoscono bene questo problema grazie consigliera l'interrompo perché certo per motivi di tempo devo anche sentire l'ex assessore al welfare di questa regione su questo provvedimento che anche qui casciari ha molte facce molti aspetti oltre a quelli che abbiamo allora intanto e diciamo che siamo una regione che ha un tasso di vecchiaia molto alto quindi diciamo per fortuna o non so come o abbiamo una diciamo il fondo della noto sufficienza va in larga misura agli anziani e gli anziani per antonomasia hanno una rete familiare più fragile e quindi è molto più facile che diciamo per scelta o anche per necessità vengano ricoverati in residenze protette quindi questo è un dato purtroppo anche fisiologico della nostra regione certo è che abbiamo notato e la risoluzione che è stata fatta in aula è andata in questa direzione che c'è bisogno di investire di più sulla domiciliarità l'ha detto l'assessore ma c'è una delibera del 2013 che sostiene questo c'è un nuovo piano del prima deliberato dalla presidente giunta che ha già introdotto come diceva la consigliera carbonali dei percorsi di vita indipendente io sono del parere che non si può derogare tutto alla famiglia quindi c'è bisogno di percorsi personalizzati questo sì perché un giovane disabile ha bisogno dei suoi spazi che non sono solo riabilitativi quindi i percorsi di vita indipendente finanziati già con fondo regionale con fondo nazionale e che devono essere diciamo strutturati ancora in alcune zone ma che per esempio nel ternano sono già partiti diciamo si prefiggono questa indicazione quindi un sistema misto pubblico diciamo e gestito dal invece dalla dalla persona dalla sua rete familiare ma dove però la presa in carico rimanga del sistema dei servizi perché questo garantisce tutti garantisce chi ha una famiglia abile e chi ha una famiglia non capace di sostenerlo quindi in questo sistema che va strutturato bene si inserisce anche una mozione che ho presentato insieme al consigliere Solinas appena la settimana scorsa per esempio sulle fondazioni di comunità che sono realtà che soprattutto in ambito psichiatrico si stanno strutturando in alcune regioni che permettono anche per tramite dei servizi in questo caso psichiatrici che hanno la presa in carico di strutturare dei percorsi individuali mettendo insieme risorse pubbliche risorse private enti pubblici enti privati associazionismo perché in Umbra per fortuna l'associazionismo è molto forte anche diciamo è un input importante anche per nuovi percorsi e nuove sperimentazioni quindi è un momento nel quale bisogna mettere da parte secondo me i colori politici ma concentrarsi su risposte sostenibili in questo senso è andato anche il percorso di accreditamento che abbiamo iniziato con appunto nella mia legislatura dei servizi sociali ovvero non più la gara al massimo ribasso ma un sistema di qualità garantito dal pubblico e quel percorso di scelta del familiare che può scegliere dove e da chi diciamo quale struttura accreditata possa essere più rispondibile che possa rispondere meglio ai propri bisogni quindi delle strade nuove da approfondire con molta responsabilità perché appunto c'è di mezzo la qualità della vita delle persone quindi credo che diciamo gli strumenti che abbiamo messo in campo ci sono ci sono anche le risorse perché il fondo della non autosufficienza c'è ricordo che il fondo dell'autosufficienza trascina dietro anche molto fondo sanitario quindi quello che vediamo come numeri in termini appunto di spesa per persona c'è dietro anche un forte investimento sul fondo sanitario quindi da tener conto anche per la valutazione e poi dell'efficacia delle azioni territoriali. Abbiamo messo il punto anche su un'altra questione importante, il nostro tempo è scaduto non mi resta che ringraziare voi della vostra attenzione al programma e le consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle Maria Grazia Carbonari e del Partito Democratico Carla Casciari oggi qui presenti. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie a tutti! Grazie a tutti! A presto! Grazie a tutti! Grazie a tutti.